Mi occuperò nella giornata di oggi di relazionare un sistema costruttivo della ditta Olsius, che dà anche il nome al sistema costruttivo. La Olsius realizza pannelli per casa in legno, senza utilizzare né colle, né chiodi, né graffe metalliche. Quindi semplicemente assemblato attraverso dei giunti a pettine e delle connessioni a coda di rondine. Questo per realizzare il più possibile pannelli prefabbricati in legno naturale, legno massiccio, capaci di integrarsi in un'architettura moderna e con alte performance sia dal punto di vista del comfort abitativo che energetiche.